1 su 2 Elena dovresti anche saltare non lo fare, muoviti 1 su 3 qua Elena giocate bravissimo Donato peccato che c'è Davide 2 su 4 la finisci o ti scansi o non stai a fare così 2 su 5 4 devi stare vicino a chi ti alza Elena 2 su 6 allargati l'italiana frontale vicino all'italiana e vai attaccare bella palla 3 su 7 4 su 8 bravi 4 su 10 fuori altra coppia ci vediamo giovedì mettici l'olio il balsamo di tigre bravo mettici il balsamo di tigre qua 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 mettici il balsamo di tigre stai vicino a chi ti alza Giacomo che Francesca non la sorprendi così 1 su 1 non si sbucciano i palloni perché hai il corso attacco Giacomo 2-2 no si sbucciano i palloni e se sbucciano i palloni 1-2 3-1 4-1 4-3 5-1 5-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 6-1 Mettitene un culo quel braccio, va bene? Così serve a una funzione. Grazie a tutti. Dai, 4-7, sui superficiali si batte corto, qua, già dai, 4-8, se hai mancato la palla Se hai mancato la palla, purtroppo non ci guardate, la coppia manca qua, 4-9, hai chiamato la spugna 5-10, fai lo soffio Andiamo Dai, vissi un addonato Non male che Marco fa schifo, guarda, 1-1 1-2, muovi il culo Dario, sei un paralitico Dai la palla, o lunga o corta Dario Brava, prova, 1-3, vedi come ha fatto Francesca, anche se non è voluto, ha spostato il difensore, sei a dire in mano Non vi passate il pallone 2-4 2-4 2-4 Donato, devi saltare, sei un dado 4-7 2-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-3 1-2 2-3 2-3 3-3 2-3 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Battuta! Inizia con... 0-1 0-2 Si muove, non fermate dagli accostati . Si muove, non fermate dagli accostati . 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.